Quando mi sono accinto a studiare quelle che potevano essere parafrasi e metafrasi di Omero in neogreco, in greco moderno, a partire dalle prime attestazioni, mi sono reso conto che per riuscire a discuterne in maniera adeguata era opportuno tenere presente anche tutto il pregresso per quello che era possibile e quindi mi sono chiesto effettivamente, fin da quando noi abbiamo testimonianze di parafrasi o metafrasi omeriche, soprattutto testimonianze concrete e testuali, per poi provare a vedere, ripeto, quale poteva essere appunto la forza della tradizione che magari accompagna tutte queste varie testi, queste varie parafrasi, fino ad arrivare poi alle innovazioni più recenti nelle quali il greco non è più greco antico ma diventa greco moderno e quindi, ripeto, mi sono cercato un po' di fare un'indagine su questi, su quali potessero essere appunto testi di riferimento, moltissimi a dire la verità sono noti, alcuni un po' meno e ho cercato di metterli insieme, è una prospettiva diacronica quindi. Allora, purtroppo non si può utilizzare in questo caso, io mi sono concentrato ovviamente sulla Iliade, non si può utilizzare quello che costituirebbe una testimonianza interessante che è la metafrasi dell'Odissea di un tale Demostene che viene citato da Eustazio di Tessalonica, ne cita vari brani, non si sa quando era datato, però ripeto, sarebbe stato interessante, ma sono solo elementi dell'Odissea. Invece, se si va in epoca bizantina, il primo caso interessante sarebbe stato quello di Sofronio di Alessandria, un patriarca, alessandrino di ambiente monastico, che a quanto risulta appunto scrive una parafrasi nella seconda metà del IX secolo, una parafrasi di cui restano dei brandelli consistenti nella biblioteca del monastero di Santa Caterina del Sinai. Sono stati segnalati, sono ripeto, dei frammenti, quindi fogli dove c'è una parafrasi interlineare di questo Sofronio, ma a mia conoscenza è ancora inedita e non ho nemmeno trovato immagini del manoscritto, quindi di questa bisognerà farne a meno. Questa sarebbe, sembra insomma, che potrebbe essere appunto una delle prime attestazioni concrete di parafrasi di epoca bizantina. Si è anche discusso cosa avesse spinto in un'epoca, insomma, così precoce questo Sofronio, questo patriarca a comporre una parafrasi, si è supposto che proprio il fatto che fosse il patriarca di Alessandria, che all'epoca era sotto gli arabi, lo avesse reso particolarmente sensibile alla dimensione appunto dell'insegnamento del greco, grammaticale del greco e non è, ripeto, una opinione mia, ma comunque lo avrebbe indotto appunto a curare una parafrasi interlineare, ma questo, ripeto, non saprei. Poi ci sono invece i casi noti, ovvero la parafrasi interlineare che è contenuta nel famoso Venetus A dell'Iliade e vedete, vi ho messo delle sigle in fondo, le sigle non sono, le ho usate io per comodità, ma le troveremo poi negli esempi dove si vedranno tutte, tutte le parafrasi incolonnate una sotto l'altra, quindi Ven è la parafrasi del Venetus A. Sotto c'è quella cosiddetta di Psello o parafrasi di Becker, che l'attribuzione a Psello in realtà non sembra plausibile, insomma non è più molto quotata, però per comodità la chiamiamo così, abbreviata come Psel. La parafrasi del Genavensis, che questa la conosciamo molto bene, è abbreviata come Gen. Quella, poi suono più o meno in ordine di tempo, usiamo quella di Manuele Moscopulo e infine quella di Teodoro Gaza, che rielabora grosso modo la precedente. Quindi queste sono quelle bizantine che terremo presenti. La prima, ripeto, purtroppo quella di Sofronio mi interessava particolarmente, ma non sono riuscito a procurarmela e quindi bisognerà farne a meno. Cosa terremo presente anche in questa, questo è un sondaggio, non è, non pretende di essere niente di più. Si terrà presente quelle che vengono chiamate le 24 rapsodie dell'Iliade di Costantino Ermoniaco. Allora qui siamo nel XIV secolo, XIV secolo. Costantino Ermoniaco cosa fa? In buona sostanza scrive in ottonari trocaici, quindi versi di otto sillabe, riscrive la storia della guerra di Troia. Si ispira certamente all'Iliade soprattutto, ma non dire la verità, non la segue troppo per dissecuamente, rimane la sua fonte di ispirazione principale è Zezze. Giovanni Zezze, famoso grammatico bizantino, che ha parafrasato, allegorizzato, riscritto variamente appunto l'Iliade, Costantino Ermoniaco scrivendo le sue 24 rapsodie dell'Iliade si ispira soprattutto a Zezze. Però è interessante citare Ermoniaco, ripeto, che riscrive il racconto, il racconto della guerra di Troia, perché su di lui, su queste sue 24 rapsodie, è basato invece quella che viene considerata la prima traduzione in greco demotico, appunto, del poema omerico, e che è quella di Nicola, Nicolaus Lucanis, Nicolaus Lucanis, che qui vedete, questa che vedete, è una pagina della prima edizione veneziana del 1526. Allora, questo personaggio, che all'epoca era giovanissimo, è stato sostenuto che appunto quando esce a Venezia la prima edizione avrebbe avuto una ventina d'anni, quindi veramente molto molto giovane, era originario di Zante, quindi di una delle isole Ionie, e poi aveva frequentato a Roma il ginnasio greco, quello di Leone X, c'era stato invitato da Gianno Rascalis, quindi educato a Roma, poi a Venezia compone appunto questa, quest'opera. Come si chiama quest'opera? Allora, la vedete sulla sinistra, Omiru Ilias, quindi Liliade di Omero, no? Metablitissa Pale Ischinin Glossan, quindi tradotta anticamente nella lingua comune, quindi che vuol dire nella lingua demotica o parlata, ninde di ortotissa che di atetissa sindomos, ma adesso corretta e disposta in maniera succinta, cae catavivlia e secondo i libri, quindi sostanzialmente ha riordinato un qualcosa che c'era precedente, catos echi i tuomiru, come è Liliade di Omero. Allora, lui dice che appunto sarebbe una revisione, riordinamento, correzioni di un qualcosa di precedente. Cos'era la cosa precedente? Era proprio, erano proprio le 24 rapsodie di Costantino Armoniaco, che vi ho detto prima. Quindi lui prende Costantino Armoniaco e lo cerca di riavvicinarlo maggiormente a Omero, al testo omerico. Costantino Armoniaco si ispirava a Zezza e soprattutto lui lo riprende, mantiene sempre la forma metrica degli ottonari trocaici, riportati appunto a due e a due, ma lo riordina in sostanza. L'opera avrà in buona sostanza anche un certo successo, perché viene ristampata nel 1603 e nel 1640. Come vedete è anche piuttosto curata, ci sono delle xilografie, insomma è tutta arricchita da questa serie di elementi. Non è, anche in questo caso, ripeto, la storia della guerra di Troia c'è, è molto più vicina all'Iliade di Omero, ma non c'è una corrispondenza esatta. In tanti casi lui abbrevia a corcia. Per esempio nel secondo canto dell'Iliade taglia moltissimo, come è ovvio, il catalogo delle navi, che è la cosa che in genere interessa meno di tutte, è considerata noiosa e quindi lui la taglia assolutamente. E infatti il secondo libro in Nicola Lucanis è composto da 241 versi, quindi è pochissimo sostanzialmente, ma perché taglia parecchio. Qual è lo scopo? È quello di fornire appunto una versione più vicina, quella della lingua parlata, della storia della guerra di Troia, gradevole, abbastanza vicina al testo, ma non è, in realtà non intende essere una traduzione precisa. Quindi bisogna stare un po' attenti a dire che sarebbe la prima traduzione neogreca perché in realtà, ripeto, non è così aderente e non lo vuole nemmeno essere. La cosa curiosa, e questo è notevole, è che a questa Eliade di Lucanis viene accluso anche un glossario, anche un glossario di parole difficili. E già questo, tra le parole difficili, ora purtroppo sono piccolissime, però come vedete c'è per esempio Ade, no? Che viene glossato tra godisse, tanto per dire, no? Quindi canta e lui accanto c'è la glossa in greco moderno e così via, ce ne sono tante. Moderno comunque più comune. Questo già ci fa capire comunque che quella lingua di Lucanis non è un greco parlato così del popolo standard, in realtà è una lingua abbastanza elevata. Si sente la necessità di accludere un glossario. Quindi anche questo, come dire, è un fenomeno che ricorrerà abbastanza di frequente. Ovvero, sì, si dice di voler parafrasare, di elaborare in un greco volgare o popolare, ma in realtà poi si tende sempre a mantenere un tono abbastanza alto. Questo è un fenomeno ricorrente. Ovvero, ripeto, quando si decide di parafrasare in greco demotico il testo omerico, però c'è sempre la volontà di mantenere un livello abbastanza nobile e elevato, al punto che, ribadisco, in questo caso si acclude addirittura un glossario. Allora, c'è poi un vuoto di alcuni secoli. Quello che mi preme farvi vedere molto rapidamente è che pur in questo lungo periodo di vuoti, vuoto di traduzioni, metafrasi, eccetera, però si continua a stampare il testo dell'Iliade, quello originale, e molto importante, questa è un'edizione veneziana del 1803, appunto curata da Spiridione Vlandis, e la cosa notevole è che queste edizioni, curate da Greci, che poi hanno diffusione in Venezia, sono corredate degli scoli attribuiti a Didimo, degli scoli a Di. Questo è un elemento importante, perché gli scoli a Di in realtà sono rilevantissimi per tutta la tradizione delle parafrasi e continuano a esserlo anche molto dopo la fine del Medioevo, proprio perché in genere, quando c'erano degli Iliade corredati di scoli, erano gli scoli a Di. E quindi, ripeto, ancora nel 1803 circola questa edizione che li presenta. Allora, arrivati all'800, la situazione cambia, ecco questa è sempre l'edizione quella veneziana con gli scoli a Didimi, gli scoli a Di in basso. Allora, la situazione cambia, ripeto, nell'800 ovviamente insomma cambiano tante cose, anche dal punto di vista politico, come è noto, e quindi c'è un approccio rinnovato all'Iliade. Allora, il primo personaggio di cui molto molto rapidamente diremo qualche parola è Atanasius Christopoulos, nato nel 1772, morto nel 1847, appunto letterato, nato in Macedonia, ma poi aveva studiato a Padova. Vivrà spesso tra Costantinopoli e i principati balcanici, quindi appunto Valacchia, Moldavia e quant'altro, e diventa famoso come letterato, no? Scrive delle anacreontiche, che sono molto note, peraltro, e si segnala anche per una posizione molto particolare per quanto riguarda il problema della lingua. Quindi, secondo lui, il greco parlato, il greco demotico, in realtà è una forma di greco antico e secondo lui è il diretto discendente dei dialetti eolico e dorico, quindi è esponente del cosiddetto eolodorismo. Quindi non si riconosce che si tratta di un greco che si è evoluto nel tempo, ma secondo lui è praticamente, insomma, è costituito da dialetti non attici, per così dire, che sarebbero sopravvissuti, appunto, nel greco parlato moderno. Allora, cosa fa? Proprio in virtù di questa nobilitazione del greco parlato, che secondo lui, appunto, è costituito da dialetti antichi nobilissimi, esattamente come il lattico, si sente nella possibilità di, appunto, tradurre il testo omerico in greco moderno, in buona sostanza, appunto, è come se fosse un passaggio semplicemente in un altro dialetto. Allora, questa qui è, appunto, la prima edizione atenese pubblicata postuma nel 1853 e vedete che in questo caso, in questa prima edizione atenese, l'editore pensò bene di mettere sulla destra la traduzione di Cristopoulos, che è una traduzione parziale, poi in realtà, non è, non arrivò a completarla in sostanza, e sulla sinistra il testo omerico, quindi sulla sinistra c'è il testo di Omero e a fronte c'è l'edizione di Cristopoulos. Questa versione, in buona sostanza, è in versi, in pentadecasillabi, che quindi è il verso canonico, insomma, della tradizione bizantina e poi greco moderna, ma non hanno la rima. Questo è un altro elemento interessante. Cioè, durante l'epoca moderna in Grecia piacciono molto le rime, l'uso della rima baciata, tutta una serie di poemi e quant'altro, ma Cristopoulos rifiuta la rima e argomenta anche la cosa, dice che aveva iniziato a tradurre l'ilia del rima, ma poi si ferma, perché appunto si rende conto che in realtà la rima non era un'eredità antica, ma secondo lui è un portato arabo, che poi dagli arabi passa alla Spagna, dalla Spagna alla Francia, dalla Spagna all'Italia e dall'Italia alla Grecia, e quindi lui rifiuta questo, la considera una, sostanzialmente una sorta di tradimento di modernismo e non lo vuole. Come dirà lui, lo dice proprio lui, appunto i poemi degli antichi, gli inni della chiesa greca stessa non hanno la rima e quindi non se ne vuole accostare. Lui traduce appunto in pentadeca sillabi, ma a suo giudizio si tratta di versi trocaici di ispirazione schilea, quindi anche come tipo diverso lui si riallaccia all'antichità. È un qualcosa di interessante, ma resta isolato, cioè questo è un esperimento poetico, rimarrà isolato, viene stampato, ma non ha poi un impatto enorme, una prova poetica di una scritta da un letterato, convintissimo del fatto che il neogreco ha uguale dignità al greco, diciamo, antico, perché si tratta semplicemente di dialetti diversi. Allora, un approccio invece, come dire, che mirava a raggiungere un pubblico più ampio e molto più organico è quello di, appunto, un altro personaggio, Rousiadis, il quale ha una storia abbastanza particolare, appunto, perché si tratta di un commerciante, un commerciante nato in Macedonia, anch'esso, che non ha un'educazione di tipo occidentale, studia a Tricca e a Castorià, quindi, insomma, rimane in ambito greco e poi si trasferisce, fugge dalla Grecia, quanto sembra, appunto, perché per evitare persecuzioni turche e vivrà alcuni anni a Trieste e poi a Vienna, dove si impiega nel commercio, quindi è un commerciante. Nel 1816 è in carcere per debiti, quindi gli affari non sono andati molto bene, ma approfittando di questa sosta, diciamo, forzata in carcere, decide di lavorare la sua grande opera, in sostanza, che è costituita, per l'appunto, da questa edizione, da questa edizione della Iliade. È un'edizione in più volumi, che comprende un po' di tutto, appunto, perché l'Iliade di Omero, vedete, parafrastissa che è omiocatalictos sticurgitissa. Allora, è l'Iliade di Omero, parafrasata e messa in versi a rima baciata, no? Quindi è messa in versi rimati. Non solo, non pago, come dire, di aver tradotto l'Iliade di Omero in versi, la vuole corredare di tutta una serie di glosse e ha anche il testo a fronte. Anche il testo a fronte. Allora, queste sono due pagine, proprio l'inizio dell'Iliade e vedete, allora, a sinistra c'è il verso omerico, sulla destra c'è la sua traduzione, in sostanza, e poi in basso, vedete, c'è una quantità enorme di note e glosse di vario genere. Nell'introduzione che scrive Rusiadis, da atto, come dire, spiega, quali erano i suoi criteri, per l'appunto, insomma, lui asserisce, intanto, lo sta facendo, sta compiendo questo lavoro per aiutare la Grecia, questa è un'incisione che c'è all'inizio dell'opera, a riconquistare la sua gloria, in buona sostanza, e quindi, per l'appunto, la Grecia deve riappropriarsi del suo passato glorioso che giace, purtroppo, in franto a suo piedi. E quindi, vedete, c'è la Grecia afflitta, che guarda il busto di Omero e che lo deve recuperare. Poi, per fare ciò, appunto, lui ha inteso fornire una traduzione, ma lo fa in una prospettiva non differentissima da quella che abbiamo visto in precedenza, ovvero ritiene che la lingua parlata sia la figlia legittima dell'antica e che non differisca da essa in buona sostanza. Cioè, sia la figlia della Greca antica, dunque, non c'è da aver paura a usarlo anche per veicolare Omero. E poi c'è una cosa curiosissima, abbastanza strana, perché, ribadisco, questo personaggio che è stato educato in maniera molto tradizionale, non rifugia dall'allegoria. Cioè, in questi suoi commenti, molto ampi, che sono anche, come dire, mostrano comunque un qualche contatto con elementi occidentali, perché poi a Vienna aveva conosciuto anche qualche commento di tipo occidentale, però non rifuggono dall'interpretazione allegorica. Cioè, lui dice chiaramente nell'introduzione che, a suo giudizio, Omero ha conosciuto le verità del cristianesimo, le ha conosciute, del cristianesimo, anzi, dell'ebraismo, le verità dell'ebraismo, ovviamente, ha conosciuto le verità dell'ebraismo, le avrebbe conosciute nei suoi viaggi o conoscendo i viaggiatori, e dunque, sotto il velame dei versi omerici ci sarebbero verità bibliche, in buona sostanza. E quindi, in questa maniera, sdogana anche lui il testo omerico. Quindi ha un'interpretazione, ribadisco, di tipo, molto spesso, di tipo allegorico, che è, devo dire, un po' antiquata, insomma, per tanti versi, però ciò non di meno molto interessante. Quest'opera viene stampata, curata e stampata, con i fondi di una serie di commercianti greci a Vienna, quindi nell'ottica, ovviamente, del risveglio nazionale, dei fermenti che ci sono, e che, insomma, di lì a poco porteranno, appunto, all'indipendenza della Grecia. Viene stampata in 2000 esemplari, primo volume, non sono nemmeno pochi, ma, nonostante, come dire, appunto, tutto l'entusiasmo profuso da Lusiadis, viene accolta malissimo, viene accolta veramente male, proprio un enorme insuccesso, ma perché? Per una serie di motivi ci sono tanti refusi, ma soprattutto viene criticata moltissimo la parafrasi, quella che lui chiama parafrasi, in buona sostanza, viene criticata, appunto, per la scelta di tradurre in versi in rima. È una tradizione, è una scelta tradizionalissima, lui lo fa, chiaramente, per inserirsi in una lunga, in una lunga linee, ma il fatto di dover piegare la traduzione alla rima lo porta spesso a ottenere delle rese che vengono molto condannate, quindi verrà molto amareggiato da questo elemento, addirittura citano, girano degli epigrammi anonimi, molto velenosi, che lo prendono in giro, ce n'è uno soprattutto, ora qui non ce l'ho, ma insomma dice, tonomiron, tiflon, idon, irotisen oadis, cioè Ade, vedendo mero cieco, gli chiese, che pios se e tiflosen, cioè ma chi ti ha cecato? O che orgios rusiadis, mi ha cecato rusiadis, no? Con la sua orribile traduzione e quindi, ripeto, lui rimane assolutamente amareggiato. Più o meno in quel periodo si colloca invece un'iniziativa altrettanto interessante, ma su presupposti diversi, ovvero è, non c'ho il titolo, comunque l'omero, quello che si chiama omiros parafrastis, quindi Omero parafrasato, scoliastis te che ecdotis, ipo neofito duca, quindi l'omero parafrasato, glossato e edito da neofito ducas, pubblicato in sei tomi a Egina nel 1835. Chi era costui? Un monaco, illuminato, era un esponente sia del diafotismos che della filichieteria, quindi un grande patriota, convintissimo della necessità appunto di rifondare la Grecia, tornata indipendente, ha studiato a Bucarest e a Vienna, quindi di ambito balcanico, e poi diventa il direttore dell'orfanotrofio di Egina. Neofito ducas scrive, farà tantissime di queste edizioni glossate, tradotte, parafrasate di classici, quindi c'è Omero, Euripide, eccetera, eccetera, anche dei lavori molto importanti, molto interessanti, però c'è un elemento che lo condannerà all'oblio ed è il fatto, per l'appunto, che lui per scelta ritiene che l'insegnamento debba avere luogo solo nella lingua dotta, quindi la parafrasi è in greco antico. La parafrasi di Omero è più semplice di quello di Omero, però in greco antico, perché l'insegnamento ritiene che debba essere esclusivamente in lingua dotta. Queste appunto sono due pagine, a sinistra c'è il testo omerico, a destra la parafrasi in prosa, ovviamente lui la rifugia dall'idea di tradurre in versi, vuole fare un lavoro preciso e scientifico, ma è comunque greco antico. È una parafrasi particolare, nel senso che tende per lo più a rendere il significato non è precisissima magari, ma vuol dare proprio il senso, anche perché, ripeto, poi ci sono tantissime note, tantissime glosse che vanno nel dettaglio per ogni singola parola. Caduto nel dimenticatoio, Ducas, appunto, per questa sua scelta considerata retriva di un insegnamento solo in greco puro, insomma in greco antico, poi ora ultimamente è stato in qualche misura recuperato. Io ho tralasciato tutta una serie di altri esempi, mi concetto solo su alcuni casi, siamo quasi alla fine di questa panoramica. Uno è questa Ilias Metenectisa Estingatomilomenin, quindi Iliade, tradotta nella lingua parlata, diatolaon ketus matitas, per il popolo e i discepoli, curata da questo Pappadakis, pubblicata appunto a Atene nel 1884. Qual era lo scopo di Pappadakis? Come è egli stesso a dire, questa vedete l'inizio, era quella di fornire un antidoto ai romanzi occidentali che giravano in Grecia in quel periodo e secondo lui facevano male, erano nocivi assolutamente e dunque voleva fornire al popolo un qualcosa, ripeto, che fosse migliore dal punto di vista dei contenuti e perciò ne fornisce questa sedicente versione demotica in prosa. Come vedremo molto rapidamente in realtà queste versioni cosiddette demotiche non lo sono mai molto e anzi spesso risentono ancora dell'influsso degli scogli ad idimi e delle parafrasi precedenti. Cioè c'è sempre, nonostante tutte le buone intenzioni, quando si arriva a dover trasferire Omero in lingua popolare, si ha sempre un certo timore e si mantiene sempre un livello di greco piuttosto alto, decisamente alto. Nel frattempo, ecco siamo quasi alla fine, c'è quest'altra versione, anche questa è molto interessante, pubblicata nel 1888 a Alessandria da un tale Apostolidis, vita Apostolidis, anche in questo caso abbiamo una metafrasis, Aplo e Linichi, cioè quindi una traduzione in greco semplice, la chiama lui, in esometri e Apostolidis, questa è stampata a Alessandria nel 1888, dichiara che lui dedica la sua opera alle madri greche, alle madri greche perché la leggano ai bambini. Perché? E qui fa una rivelazione abbastanza interessante, dice che all'epoca Omero veniva studiato solamente per un semestre al ginnasio e poi non veniva più toccato, no? E quindi si perdeva il contatto, cioè cosa succede, no? Che sostanzialmente mentre in precedenza Omero si poteva attingere o in versioni romanzate, come quella di Lucanis, Armoniaco o quant'altro, oppure attingendo direttamente al testo, dopo in questi anni che seguono l'indipendenza, in questi decenni, viene confinato, cioè Omero si, i giovani lo vanno a toccare solo in circostanze molto molto limitate, appunto solamente per un semestre, non leggendo tutto, ma solo brani. E quindi c'è chi lancia un grido di allarme come questo Apostolidis che appunto dice no, assolutamente bisogna che almeno il contenuto sia noto ai nostri giovani per la patria, perché è molto, come dire, patriottico anche quest'autore, e dunque la scrive, dichiara addirittura di aver composto questa sua metafrasi in una lingua adatta alle madri e ai bambini. Anche in questo caso, come vedremo, ripeto, molto molto rapidamente, ma non è detto, rimane molto molto elevato. Allora, quando è che si arriva finalmente a un greco, questa è la prima pagina, a un greco demotico vero? E si arriverà solo abbastanza tardi, tutto sommato, con Alexandros Palis. È lui il primo che fa la prima vera traduzione in greco parlato, ecco, senza, si libera da tutte le, come si dice, da tutta la zavorra precedente, dalle parafrasi precedenti, si libera dagli scoli, si libera dalla necessità di tenere comunque un livello abbastanza alto, spazza via tutto. Il personaggio di rottura è la stessa persona che nel 1901 traduce il Nuovo Testamento in greco moderno e questo suscita rivolte nelle strade, perché veniva considerato un atto quasi sacrilego tutto ciò, ma è appunto schieratissimo dal punto di vista della necessità di utilizzare il greco veramente parlato, no? E non la catarevus, che è una forma artificiale, elevata, incomprensibile magari ai più, e appunto per questo traduce i capisaldi della cultura, insomma, ovviamente, quindi il Nuovo Testamento e poi nel 1904 dà alle stampe a Parigi l'edizione completa anche dell'Iliade, ed eccola qua, no? Iliada metafrasmeni appunto da Palis. Da notare che la grande differenza si vede subito dal titolo, perché non è più Ilias ma è Iliada, cioè questo dà proprio il là a tutto. Ecco, Palis, questa è la prima pagina, proprio l'incipit, con Palis finalmente, cioè si rompe con la tradizione precedente, si volta decisamente pagina e non ci sono più, appunto, non c'è più la volontà di rimanere aderenti, senso di imbarazzo, eccetera, eccetera, ma si arriva finalmente al greco moderno. Allora, non ci abbiamo tempo, a limite qualche cosa la possiamo vedere nell'atelier, però il lavoro alla fine che ho fatto è questo qui, cioè di mettere in colonna il verso omerico che è trovato all'inizio, gli scolia, gli scolia didimi che sono sotto e poi tutta la serie di paraprasi che vi ho citato, no? Quindi da quella del Venetus a Psello, a quella attribuita a Psello alle altre. Allora, ovviamente non c'è tempo di andare nel dettaglio, però se ci fate caso, anche molto rapidamente, vedete che gli scolia didi hanno un peso enorme in tutte le parafrasi bizantine e anche successive. Addirittura guardate, no? Vedete, dov'è? Ecco, vedete, Aide, Ade, Leghe, ecco, questo Ade, Leghe che compare appunto in scolia didi c'è anche in, per esempio, Scenermoniaco, no? Ecco qua. Scenermoniaco e poi dopo viene ripreso da Lucanis, cioè quella che viene appunto, no? Descritta come la prima vera traduzione greco moderno in realtà in alcuni casi prende di peso gli scoli. Alla fine, appunto, anche per rendere il verbo cantare, ci sono in molti casi viene, lo troviamo reso con Eipe, Ade per esempio, Ade in tantissimi casi si passa a Psale, da Psalo che comunque insomma è un verbo di tono abbastanza elevato, alla fine ecco il cambiamento come sempre c'è proprio con Palis che alla fine mette traguda, cioè quindi il verbo tragudo, ecco, ma che è quello veramente più comune, più usitato. Prima c'è sempre, ribadisco, o il peso fortissimo della tradizione precedente degli scoli o comunque si cerca di mantenere un livello alto. il tempo chiaramente non c'è, ma anche qui, ripeto, se uno dà un'occhiata molto rapida vede che il vero e principale cambiamento c'è solo in fondo, prima c'è il peso fortissimo della tradizione precedente. Possiamo vedere, ripeto, ho preso solo qualche verso, andiamo un po', ecco, anche qui qualche oscillazione si può notare, no? Quindi si parla dei cani, verso 4, questo dell'Incipit dell'Iliade, il primo libro dell'Iliade, appunto si dice che i corpi degli eroi morti diventano cibo per i cani, qui c'è tutta un'oscillazione, vedete in alto si parla sempre di Chiusì, quindi in queste prime, nelle parafrasi bizantine, poi si parla sempre, appunto, di Chiusì o Chiusì anche in armoniaco e Lucanis. Il primo cambiamento notevole si trova con Cristopoulos che parla, appunto, dice che i corpi degli eroi diventano phaithon, schilon, cibo dei cani, e quindi qui cambia la parola, non più Chiuon, appunto, ma Schilos. Russiadis si mantiene, appunto, in questa direzione, ma vedete Ducas che ritorna a Chiusì, appunto perché lui parafrasa in greco antico, per le sue idee, insomma, giustamente educative. Allora, guardate qui, appunto, molto, 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 molto rapidamente lo scolio di Oionoisi, dice, Tois sarcofagois ornesi, agli uccelli carnivori, chiaramente cadaveri, insomma, diventano cibo per gli uccelli carnivori, è abbastanza banale come cosa, insomma, questa osservazione, ma questi sarcofagois ornesi, vedete, ricompaiono nella parafrasi di Psello, in quella del Genavensis, e poi saltano fuori anche dopo, addirittura nello stesso Russiadis, no? Che dice, is sarcofaga petina, ai volatili carnivori. Quindi, ripeto, anche lui, chiaramente, l'ha ben presente questa cosa, emerge in maniera evidente. E anche lo stesso Pappadakis, che era quello che voleva fornire l'antidoto ai romanzacci occidentali, a un certo punto, vedete, lo mette, ton bantoidon, sarcovoron orneon. E ripeto, è della stessa identica linea. Il cambiamento, alla fine, è più diretto, cioè, come sempre, in fondo, dove compaiono taornia, ma non c'è più menzione del fatto che siano carnivori. Ultimo verso di questi che avevo messo qui, appunto, si fa riferimento al Signore di Uomini, a Tride e al Divino Achille, e qui mi riallaccio a quello che diceva appunto Luigi Silvano Pocanzi, ovvero il fatto che c'è sempre un imbarazzo rispetto al paganesimo dei poemi. Allora, il Divino Achille non, sembra che abbia suscitato magari qualche perplessità, viene, gli scoli, gli scoli adi glossano Kai Dios Achilleus come Teios Euganes, quindi Divino, ma guardate che, ecco, qui non vengono accolti nelle parafrasi, cioè spesso gli scoli adi confluiscono di peso in tutte queste parafrasi, direttamente, ma in questo caso il suggerimento di, come dire, parafrasare Dios con Teios, quindi Divino, non viene accolto, perché imbarazza. E allora si comincia, Achille può essere Endoxotatos, Endoxos, 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 cioè si ricorre a questa scelta che è notevole, perché, ripeto, in genere si prende sempre di peso quello che c'è nelle scoli adi, Endoxos, e poi, ecco, in qualche caso invece ricorre con Ermoniaco e Lucanis, Achille diventa più veloce, Tacippus, no? Però, ripeto, qui si prende un altro epiteto di Achille, ma si glissa ancora intorno a questo elemento che creava fastidio, ma lo stesso Cristopoulos, eh, Doxasmenos, Russiadis e Ducas fanno una inversione, in buona sostanza, hanno avvertito l'ordine dei versi, ma è Russiadis il primo che si permette di tradurre proprio Teios, Achilleus. Perché lo fa? Perché era convinto che Omero, in realtà, nei suoi versi, trasmettesse la verità della Bibbia. Quindi lui può sdoganare tutto. Cioè, questo gli permette, ripeto, di sdoganare tutto e questo Russiadis, questo personaggio abbastanza strano, però è il primo, stranamente, che accoglie il suggerimento degli scogli adi, che, ripeto, hanno chiaramente la loro importanza fino in fondo. E poi, appunto, alla fine, insomma, vediamo che una volta sdoganato da lui, il suggerimento viene accolto anche, per dire, da Papadakis, no? Che riporta Teios, ma qui oramai, come dire, il pericolo del paganesimo di Omero, sembra definitivamente superato. Allora, questo è stato un sondaggio, ripeto, una carrellata, insomma, mi scuso, è stata anche un po' lungo, però, devo dire, insomma, mi sembra emergano anche cose interessanti. Cioè, mettendo tutto in colonna, tra l'altro, insomma, si vedono anche alcune particolarità del Genavensis, ora qui non ci siamo soffermati, è un lavoro un po' lungo, però, ecco, appunto, qualche elemento è uscito fuori. Se poi c'è tempo, insomma, io ho tre versi, li ho selezionati, eventualmente parlate lì, se no, comunque, insomma, tanto non mancheranno occasioni, così magari anche di riparlare di questo. E vi ringrazio.